Io sono la vite, quella vera. Se nel Primo Testamento e in tutta la tradizione profetica è Dio ad avere una vigna che simboleggia Israele, qui è Gesù che afferma di sé di essere la vite. E noi siamo i tralci. Come a dire, la vite e i tralci, che tra lui e noi scorre la stessa linfa vitale. Si tratta, a ben pensarci, di un'unione più stretta di quella tra una madre e il proprio figlio che porta in grembo. Tra madre e figlio scorre lo stesso sangue. Il respiro e l'alimento della madre passano nel figlio. Ma il figlio non muore se si distacca dalla madre. Anzi, è necessario che al termine della gestazione avvenga questo distacco. Nel caso della vite e dei tralci, invece, è necessario che questo distacco non si compia, perché significherebbe che il tralcio perde la sua vitalità. E questo allora, attraverso le immagini che Gesù predilige, tratte dalla vita quotidiana, ci dice che il rapporto con Dio in Gesù Cristo non è tanto una questione di volerlo imitare, quanto piuttosto di avere consapevolezza che Dio è della nostra stessa pasta, anzi, che noi siamo della stessa pasta di Dio e che scorre in noi lo stesso suo flusso vitale. Questa consapevolezza che è alla radice della nostra fede è stata sicuramente ben presente nella vita di Don Francesco che aveva ben chiaro questo legame che è ben più di un rapporto esteriore perché ha a che fare con ciò da cui noi si dipende. E Gesù va ancora più a fondo perché aggiunge a scanso di equivoci chi rimane in me e io in Lui porta molto frutto. Rimanere è l'accorato appello del Maestro. Non basta andare, occorre anche saper rimanere, cioè occorre saper coltivare questa relazione con Lui che è ciò che ci ancora all'esistenza. Ed è ciò che consente di portare molto frutto. È interessante. Gesù usa nel testo di Giovanni la parola al singolare. Non parla di frutti, parla di frutto. Perché ciò che conta non è la produttività, cioè la serie delle opere sterminate che facciamo, ma la qualità di ciò che noi realizziamo. E certamente questo è anche il metro per valutare la consistenza di una persona. non tanto la serie innumerevole delle opere realizzate, e Don Francesco sicuramente ne ha fatte tante, ma la qualità di ciò che egli ha espresso. Perché se Dio talora sembra scomparso dal nostro orizzonte quotidiano è perché noi sedicenti credenti non sempre riusciamo a dare a vedere questo frutto, cioè questa qualità che si irradia intorno a noi. e per questo Gesù conclude con parole che a sentirle sembrano un po' presuntuose, ma che in realtà ci dicono chi è Gesù. Senza di me non potete fare nulla. Verrebbe da pensare che Gesù sia eccessivo in questa sua affermazione. se non fosse che la nostra esperienza quotidiana ci dimostra che quando ci stacchiamo da Lui, dalla fonte viva che è il suo amore, finiamo sicuramente per fare naufraggio. E ce ne siamo resi conto anche in questo tempo confuso del post-Covid. Sì, ci siamo resi conto che non basta avere, possedere, ma occorre preservare questo rapporto profondo con il Signore Gesù nella fede perché è ciò che dà alla nostra vita un ancoraggio sicuro. Ed è quanto Don Francesco ha nella sua vita ricercato e continuamente elaborato. Preghiamo allora il Signore Gesù che dia anche a noi di essere vitalmente innestati nella vita che è perché si possa dare quel frutto di amore, di gioia e di bellezza che irradia attorno a chi è unito al Maestro. Grazie a tutti.